good morning sì qui sono alle 10 come dico in questi casi certo non proprio una mattina persissima mattinata inoltrata ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente semplicemente david lynch it's may 10 2022 and it's a tuesday here in naples a clear clear morning in this moment very still right now 73 and 73 and four fahrenheit around 23 celsius and this means that it's that they really 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 soft like these days in this period and also because it seems more a summer climate than a spring climate as regard the video to itself i'll do it i'll do it always separate from this so the case is open if you are interested anyway i see and you'll just see from the window i think that this afternoon temple potrebbe addirittura anche salire low up or on the same level uh maintain on the same level but we'll see we are not a wizard so a wizards always on this point but the really important thing with this atmosphere is that today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and i think all along the way ovviamente all along the way qui meno ore rispetto a voi essendo già la mattina adottata o comunque essendoci diverse ore di differenza rispetto a dove viete voi eh sì per cui bene dopo questi quattro giorni insomma di un molto nuvoloso compiuto eccetera finalmente pare che ce l'abbiamo a meno chi non si annuvoli più tardi ma non credo sembra promettivamente bene la giornata per cui siamo anche così la prima così anche domani per cui per cui so from the mythical window with the red orange blue water curtain and it's green roller shooter behind the me on the top not visible infactor in the shot and finally from mythical keyboard di amadi gx 640 ipg ipg 625 eva a great day in all the people follow the channel reports si un saluto davvero a tutti polso io la farò tra poco il mio stomaco brutto non so se lo sentite e soprattutto spero vi possiate consolare con la vostra bella colazione se il tempo deve essere brutto la vostra parte rispetto a qui yes i'll see you in video toots il file do it or tomorrow io 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 io